Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo pronti per l'aperitivo, come sapete, questo è il classico del 26 dicembre, ritrovarci qua, profumo di grano, direi accanto a me, per stare insieme, augurarci buone feste, più tardi lo faremo ovviamente in modo più approfondito, a ristorante, adesso però chiederei un attimo di silenzio e di attenzione.